Le persone e le famiglie non sono tutte uguali. Per questo, Cattolica Assicurazioni ha ideato Active Casa e Persona, la soluzione modulare e flessibile per tutelare la tua casa e il tuo mondo a tutto tondo. Con Active Casa e Persona, le scelte a tutela sono più chiare, più ampie, più tue. Protezione casa. Ogni casa è diversa dall'altra. Con le tue garanzie assicurative puoi proteggere la tua casa con tutte le coperture di cui hai bisogno. Incendio, furto, eventi catastrofali come terremoti e inondazioni, purtroppo oggi più frequenti nel nostro paese. Puoi aggiungere anche il sistema di telesorveglianza professionale nato dalla collaborazione tra Cattolica Assicurazioni e IMA Protect. Un sistema di sicurezza e di prevenzione con dispositivi affidabili, facili da usare e wireless. Per una casa sempre sicura e protetta, sia di giorno che di notte, anche quando non ci sei. Protezione Persona. Ogni persona è diversa dall'altra. Ma tutti abbiamo il desiderio di vivere sereni, con tante garanzie in grado di proteggerci in ogni momento dai piccoli imprevisti e dalle grandi preoccupazioni. Responsabilità civile, salute, assistenza, tutela legale. Oltre a un sostegno economico concreto se sei in difficoltà. Senza dimenticare le garanzie studiate per tutelarti dai rischi legati ai nuovi stili di vita connessi. Analisi della vulnerabilità, protezione dell'identità digitale, risarcimento in caso di furto online di fondi personali o ancora protezione contro i rischi del cyberbullismo e cybermobbing con servizi di consulenza telefonica e assistenza psicologica. Protezione Animali Domestici. Gli amici a quattro zampe sono parte integrante della tua famiglia. Prenditi cura di loro proteggendoli da rischi e pericoli con garanzie specifiche e tutelati da qualsiasi danno possano causare agli altri. E poiché ogni persona ha uno stile di vita differente, Cattolica Assicurazioni ha personalizzato queste garanzie con delle soluzioni ad hoc in base al tuo stile di vita. Che tu sia digitale, metropolitano, previdente o dinamico, trovi in Cattolica Assicurazioni la giusta protezione in risposta ai tuoi specifici bisogni. Perché nessuna assicurazione è facile, nessuna situazione è uguale all'altra, nessuna persona è uguale a un'altra. Active Casa e Persona. La tua casa e il tuo mondo ha tutto tondo. Cattolica Assicurazioni. Pronti alla vita.